buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video oggi vediamo una novità in merito ad soluzioni alternative di android auto bene allora immaginiamo che appunto come sempre voi non avete un'auto che disponga di android auto quindi cosa fare o utilizzate android auto per telefoni o utilizzate la nuova modalità che abbiamo visto precedentemente ovvero la modalità alla guida di android di google maps oppure c'è una nuova soluzione infatti parliamo di auto zen questa applicazione è una un vero e proprio scimmiottamento di android auto appunto vedete come l'interfaccia è esattamente la stessa di android auto abbiamo il pulsante per le applicazioni un pulsante per le chiama per il log delle chiamate delle chiamate recenti un pulsante con le app con le applicazioni recenti quindi in questo caso le mappe un pulsante per i comandi vocali che però sono dei comandi vocali proprietari dell'applicazione quindi non si usa google maps in questo caso ma sono soltanto appunto dei comandi vocali proprietari quindi che sfruttando la lingua inglese o la lingua italiana per esempio se sono disponibili si va ad utilizzare quindi una sorta di comandi vocali semplici quindi naviga verso oppure altre cose semplici non comandi complessi come quelli che si possono fornire ad android auto e poi qui la sezione notifiche con appunto la possibilità di disabilitare le notifiche direttamente da questo pannello come vedete appunto l'interfaccia ci propone tutte le applicazioni presenti sul dispositivo compatibili perlomeno con l'applicazione almeno di base ma possiamo aggiungere altre applicazioni appunto possiamo andare a personalizzare il launcher delle applicazioni con l'aggiunta di nuove applicazioni come vedete qua appunto possiamo creare delle app usare delle applicazioni degli shortcut oppure per esempio appunto tutti gli shortcut disponibili per le varie applicazioni che vedete appunto qui oppure delle azioni in app come appunto le impostazioni il launcher google navigation calendar ad app e auto zen che appunto sono delle scorciatoie che potete rimettere nel caso in cui voi le aveste eliminate però appunto vediamo che innanzitutto quando noi facciamo partire una applicazione ad esempio utilizziamo appunto spotify per dire questa si va a visualizzare nella impostazione classica cioè non c'è nessuna visualizzazione in modalità auto quindi l'applicazione è avviata così com'è è come se noi stessimo effettivamente cliccando sull'icona di spotify nella home del nostro telefono e la stessimo aprendo senza alcuna impostazione particolare nel momento però in cui voi doveste andare a premere di far partire della musica si avvierebbe qui l'interfaccia relativa al riproduttore musicale con la possibilità di andare avanti e indietro nelle canzoni il navigatore proprietario non esiste perché qui ci si basa sulle mappe di map box e open street ma open street maps ma nel momento in cui noi vogliamo fare una navigazione per esempio navigate to roam ok perfetto come vedete appunto abbiamo una partenza di navigazione che però come vedete ora andrà direttamente su google maps e quindi ci andrà a vedere appunto quelle che sono le impostazioni classiche di google maps quindi non c'è alcuna grande differenza rispetto ad una modalità alla guida di google maps tranne appunto questa barra in basso molto più utile perché avevo dimenticato di dirvi nel video precedente che la possibilità di utilizzare la modalità alla guida di maps è solo in verticale al momento non c'è la possibilità di vederlo in orizzontale quindi poi andiamo nelle impostazioni andiamo in maps e navigation appunto possiamo utilizzare possiamo andare a decidere di iscrivere appunto quello che è l'indirizzo di casa e del lavoro oppure di decidere quale applicazione vogliamo far utilizzare per la navigazione appunto se volessimo utilizzare il navigatore integrato potremmo ma dovremmo pagare la licenza premium che costa ben 24 euro per avere una licenza a vita di questa applicazione altrimenti possiamo utilizzare google maps o anche ways per quanto riguarda invece i limiti di velocità possiamo andarli a visualizzare ma questa funzione richiede una connessione a internet quindi utilizzala soltanto quando c'è la possibilità di poter abilitare l'internet di cancellare la storia della navigazione e tutte queste invece sono impostazioni relative all'utilizzo premium di l'utilizzo premium di questa applicazione possiamo però invece abilitare la funzione di avere le indicazioni turn by turn di google navigation che anche se questa funzione funziona dai dispositivi da android 10 in poi nelle impostazioni generali appunto possiamo personalizzare il launcher possiamo poi successivamente andare a decidere i sistemi metrici da usare il launcher da utilizzare come premium però che è sempre una funzione premium abilitare la bolla di flottante che però non è interessante molto abilitare le gestures e tutte queste funzioni sono premium cioè loro vi forniscono un'applicazione piuttosto basilare che comunque funziona non ci sono problemi ma appunto non vi forniscono una esperienza completa appunto se voi la vorreste completa dovreste pagare questi euro infatti se noi andiamo sulla voce premium ci dice qui come diventare un membro premium innanzitutto abbiamo una prova gratis di 7 giorni se decidiamo di sottoscrivere l'abbonamento e poi invece possiamo avere la licenza vita di 22,99 la licenza annuale di 9,99 un'acquisizione, una sottoscrizione, un abbonamento di 6 mesi 7,49 oppure abbonamento annuale senza però la navigazione in app di 4 euro sicuramente appunto è una cosa che si può essere utile ma anche non tanto cioè alla fine questa applicazione per come funziona visto che alla fine della fiera le applicazioni si apriranno sempre nel loro stile classico e non ci sarà un'apertura all'interno di questa applicazione lascia un po' il tempo che trova è sicuramente consigliata per chi non possiede Android Auto in macchina e quindi sicuramente quella mancanza potrebbe far spingere l'utente a acquistare anche la versione premium dell'applicazione perché con 23 euro risolve un problema che richiederebbe più di 200-300 euro da risolvere e quindi sicuramente con questa applicazione potreste risolvere molti dei vostri problemi sicuramente io non la userei perché ovviamente ho Android Auto e posso utilizzare quello però era giusto informarvi in merito a questa nuova applicazione per questo video è tutto quindi ci vedremo in un prossimo video sicuramente con aggiornamenti in merito all'applicazione AAD di cui appunto sono uscite delle nuove versioni dell'applicazione e quindi un saluto a tutti da Real User 101 grazie a tutti grazie a tutti